La denuncia è stata presentata stamane al comando dei carabinieri di Lignano Sabbiadoro. Andin Ganso, il 35enne medico camerunense residente a Caorle e in servizio al punto di primo intervento di Lignano Sabbiadoro, non ha voluto attendere. Troppa la rabbia, troppo il disgusto. Per lui, dal 2006 in un'Italia dove ha coronato il sogno della laurea in medicina e già in passato protagonista di denunce contro il razzismo subite da lui e da altri connazionali, quelle parole feroci sono state l'ennesima pugnalata. Le parole di un 59enne trevigiano, già lavoratore stagionale a Lignano, che il 17 agosto in piena notte si presenta in ospedale con diverse ferite dopo una litte in stato di alterazione e che si rivolge così al medico, rifiutandosi di farsi curare. Bestemmie e insulti senza sosta di fronte al medico, una bagarre nel punto di primo soccorso, tanto che il 35enne, vista la situazione, chiama i carabinieri e nel frattempo registra quelle parole che poi pubblicherà sui social. Croce rossa a Lignano, i negri all'arimbaggio. Certo una laurea da voi costa 500 dollari, pezzente. Con tutte le sfide un dottor negro, mamma mia, non toccami, che non è tanti malattie. Assistito dal legale Chetila Torre con studio a Bologna, il medico asporto denuncia confermando i fatti già riportati. Sulla caduto le forze dell'ordine faranno rapporto all'autorità giudiziaria per una valutazione dei fatti da parte del PM della procura di Udine.